Sì, non sei tanto lì! Sì, non mi si fiuma! E' un po' l'italiano, buono! A presto! E' questo! E' questo è davvero qualcosa! E' questo davvero. Ora io ho vimato a casa qui. E' questo. La guerra era questa. E' questa è la guerra, la guerra. E' questa? E' questa? E' questa? E' questa? E' questa? E' questa? Grazie a tutti